Dani, comunque lui è... Arrabbiato? No. Triste? No. E' pensieroso? Ma che dici? Ah non lo so, è che con questa faccia sei molto criptico. Dammi delle lettere, degli indizi. Ah, Daniè, lui è Davide, il ragazzo dell'associazione di cui ti parlavo. E' affetto da sindrome di Down, quindi... Vi preoccupate? Io sono bravo in queste cose, lo sai? Eh, sì, sì. Davide, 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 piccolo Davide, quanti anni hai? 24. Ah, 24? Ma, oh, io gliene avrei dati 12 al massimo. Ma sai che cos'è? E' che con questa faccia si è tutti uguali, sia da bambini che da bambini grandi. Sono molto contento che la mia amica ti abbia adottato. Ma che stai dicendo? Perché le persone come te vanno prese se uno se ne può prendere cura. Non devono uscire, non si devono lavare, non si devono vestire. Oh, e i bisogni, non li conti, scusa. Ah, vedi che lui è autonomo. Vedi tu che progressi che fa la tecnologia, mannaggia la miseria. Eh, senti, mi sai, Davide, a te che cosa piace fare? Eh, ma, ti piace guardare i film? Io c'ho un sacco di film che fanno per te, cioè ce l'ho proprio tantissimi sul computer uno a fianco all'altro. I famosi film in download. Senti, Davide, io ti posso dire una cosa, però. Io fossi in te io guarderei il bicchiere mezzo pieno. Perché tu hai una cosa in più che gli altri non hanno. Tipo i cromosomi. Però se c'è una cosa su cui non transigo, è il ritardo. Io sono conto il ritardo e il ritardo a tale, perché sono una persona molto puntuale. Guarda che ti ho portato. Ma quando ti ho insegnato e riporto. Ma basta! Io sono da un nostrum. Io te l'avevo detto che l'hai avviato. Ciao!